Vittorio Brumotti torna nella città di Piacenza, ci troviamo in regione Emilia-Romagna, una città stupenda, magnifica, una città d'arte, azzardo a dire, torna in loco proprio nei pressi della stazione, crocevia di viaggiatori che vanno e vengono da ogni città del bel paese italiano per mostrare come effettivamente parlando continui ad essere indisturbato lo spaccio di droga, quindi stupacenti, a cielo aperto. Tutti spacciano, tutti quelli che si trovano lì a transitare, ricevono richieste o meglio offerte di droga da parte di simpatici baldanzosi giovani o ragazzi, comunque uomini, che prestano proprio il loro servizio nel dare, nel commercializzare, nello spacciare la droga, gli stupefacenti. Eppure, se ben vi ricordate, lo stesso Vittorio Brumotti si legò tempo a fa, tempo a dietro, un po' di anni fa, sempre a Piacenza, regione Emilia-Romagna, una città davvero epica, magnifica, ricca d'arte, ricca di storia, ricca di fascino, proprio perché voleva vederci chiaro. E questa volta di nuovo c'è stato per capire, o meglio per rendersi conto, se questo fenomeno dello spaccio si era andato ad arginare oppure no, e invece è rimasto scioccato. Infatti lo spaccio di stupefacenti continua ad esserci in Piacenza, regione Emilia-Romagna. Detto ciò, è un quadro triste, un quadro brutto, drammatico, negativo, quello che ci fa vedere i buon Brumotti. Il video termina qua. Ciao da Leandro, Dall'Auto Italiano.